buongiorno buongiorno ed eccoci qui a spiegare un attimo vi avevo detto che avrei fatto un video particolare questo video serve semplicemente a spiegarvi che da oggi in poi da domani in poi vediamo con i tempi di youtube non li conosco se volete potete abbonarvi al canale esistono tre livelli di abbonamento il primo abbonamento base chiamato palacea prevede la visione solo per gli abbonati chiaramente di un video giornaliero che contiene una carta del giorno insieme a tutti i movimenti planetari della giornata quindi ci dà un'indicazione di come andrà la giornata perché non solo parleremo dei movimenti planetari ma ci sarà anche la carta del giorno quindi particolarmente secondo me particolarmente interessante per quanto riguarda e questo sarà ogni giorno quindi un video ogni giorno che ci parlerà dei movimenti planetari quando ci saranno dei cambi di pianeti di pianeti vi spiegherò quindi sarà spiegato cosa porta questo pianeta che che tipo di perché sapete bene che credo molto o almeno mio quando faccio gli oroscopi sono molto anche attenta a quelli che sono i cambi planetari perché quelli sono importantissimi se no non ti spiegherebbero tante cose questa è storia questa è storia cioè l'uomo si è sempre basato su quelli che sono movimenti planetari chiaro ognuno di noi la concezione diversa dell'oroscopo a me piace tantissimo quella del maia vi spiegherò un giorno qual è la concezione del maia all'oroscopo insomma i video ogni giorno saranno con una carta con i vari movimenti planetari se ci sono dei cambiamenti vi andrò a spiegare quali saranno le conseguenze dei cambiamenti e dopodiché una carta estrarremo una carta durante la giornata è e questo ogni giorno una volta la settimana invece proporrò agli abbonati un video diverso agli abbonati del primo step parlo un video diverso che ci andrà a spiegare carta per carta il significato tra l'altro cominceremo chiaramente dai tarocchi normali ma allora esplicitare invece anche gli oracoli le sibille quindi andiamo a fare andiamo a confrontare più tarocchi andremo a fare un qualcosa di particolare e questo vale per gli abbonati base quindi una volta alla settimana il video sui tarocchi o le sibille una volta al giorno quindi l'impegno non è poco la disposizione dei pianeti di quella giornata e la carta del giorno questo è per l'abbonamento base andiamo all'abbonamento a secondo tipo di abbonamento che si chiama artemide questo abbonamento provvederà sia la carta del giorno quindi video giornaliero sia un video settimanale che abbiamo detto e le carte poi chiaramente posso farlo in tantissimi modi io pensavo di introdurre anche i cristalli la spiegazione di cristalli ogni volta che insomma non ci atterremo soltanto la spiegazione delle carte ma andremo ogni volta a tra l'altro se voi se gli abbonati hanno delle domande delle domande da fare dei video particolari che vogliono ascoltare ok per esempio ci occuperemo di metodi di divinazione parleremo di atena parleremo delle sibille ogni video ok quindi dipende non saranno soltanto le carte in più questo tipo di abbonamento è previsto un una domanda personale scelta a cui risponderò con un video personale quindi significa che ognuno di voi abbonati a questo livello secondo livello mi potrà fare una domanda e io invierò il video con la risposta personalizzata al mese chiaramente credo credo non sono così sicura che per il secondo livello dovrebbe essere tutto andiamo al terzo livello perché ci sono tante cose poi mi sono dimenticata pure io ok il terzo livello vabbè poi mano mano insomma le vedete scritte queste cose il terzo livello un po più impegnativo sia per me che per voi chiaramente come tutte le prerogative dei primi due livelli quindi significa la carta del giorno con i pianeti giornalmente il video settimanale sulle carte i cristalli le piante i metodi divinatori le sibille tutto gli animali gli animali totemi per esempio in più in più parleremo anche di meditazione in alcuni video in più avremo la possibilità di avere un video tutto nostro quindi una domanda non una domanda ma proprio un vero e proprio tra queste consulta personalizzato tutto nostro che posso inviare tramite video o possiamo fare interattivamente come a diretta quindi una volta al mese un consulto personalizzato avrete anche diritto in quanto abbonati nel momento in cui andrò anche a fare dirette ad avere accesso per primi alle domande inoltre inoltre un video di meditazione al mese e per gli abbonati per questi abbonati dell'abbonamento Atena mi sono basata tutta sui nomi particolari i video non saranno a cadenza solo settimanali ma saranno bisettimanali perché saranno di più argomenti quindi andremo a parlare anche di energia quantica più che altro di biologia quantica e andremo a parlare di guarigione o almeno chiariamo il concetto di guarigione ok di quello che è il potere della mente nel processo di guarigione ecco quindi oltre che il video settimanale che riguarda le carte che può riguardare i metodi di divinatore eccetera eccetera avremo anche un altro video settimanale per questa tipologia di abbonati un po' più tra virgolette impegnativo in cui si parlerà di risultato quello che è il processo della mente delle guarigioni quello che può essere e anche e soprattutto quello che mi interessa di questa tipologia di carte che una volta vi avevo fatto vedere e che vi spiegherò mano a mano quindi nei vari video di tutti e tre livelli chiaramente quello di una volta alla settimana parlerò anche delle rune quindi ogni volta un argomento diverso mentre invece nell'ultimo livello saranno due video la settimana con argomenti diversi con argomenti trattati in maniera un po' più esplicativa ripeto parliamo anche degli animali totem parleremo degli animali parleremo di di storia anche di storia della magia ma soprattutto non della magia parliamo di quello che è la storia applicata agli oroscopi quindi all'astrologia di quello che è la storia applicata ai mediati di divinazione il giorno mano mano andremo a scoprire tra l'altro se qualcuno di voi ha delle curiosità particolari andremo anche interagire in questo quando sarà il momento di fare le dirette chiaramente avrete il primo posto nelle risposte perchè compriranno dei badge ad ogni abbonato a fianco ad ogni abbonato questo è il motivo per cui oggi ho fatto questo video andiamo anche a parlare di giudoroschi ma questo lo andremo a parlare poi piano piano c'è tanto da dire tanto 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 tutto quello che in un video di sete interattive per intrattenimento non si riesce a dire non è sempre facile tra l'altro mi piacerebbe invece interagire con con voi soprattutto con gli interessati riguardo a centomila altri argomenti ma anche argomenti che vi possono interessare quindi siete liberi di fare anche la domanda io metto dalla mia parte tutto l'impegno possibile per offrire il meglio di quelle che possono essere vi ripeto sia servizi base come la carta del giorno insieme ai movimenti gli influssi planetari e il video settimanale sia nella domanda mensile col video mensile una domanda una risposta in video sia nel consulto in video interattivo come volete voi insomma e nel doppio nel doppio video settimanale insomma io cercherò di darvi il massimo poi ognuno di voi chiaramente nulla toccherà con tutto quello che finora faccio quindi rimarranno i tre video settimanali tra cui tarocchi e la canzone che vedo che comincia ad essere apprezzato i quattro oroscopi da domenica questo assolutamente non si tocca non si varia e il va benissimo così chiaramente chi volesse chi fosse interessato ad avere una carta ogni giorno con le esplicazioni planetarie chi fosse interessato ad avere dei video un po' più un po' diversi che ci raccontano anche come sono nate certe cose certi movimenti certe influenze allora ok andiamo a farli per quelli che sono interessati ok chiaramente sono e ci vuole molto tempo per elaborare anche questi tipi di video per cui ecco perché vi si richiede l'abbonamento spero di essere stata chiara noi ci rivediamo adesso va in onda il video che ho registrato sul video della settimana nel video del lunedì che poi è diventato martedì come vedete noi ci rivediamo presto in ogni caso bye bye ciao